Cari amiche e cari amici, in questo video voglio rispondere ad alcune vostre affermazioni e ad alcuni vostri interrogativi. Non ho dato risposte sotto ai video perché alcune domande, come vedremo, richiedono risposte molto articolate e dunque non posso rispondere in maniera sintetica. Perché? Perché ci sono alcuni aspetti della preghiera che sono, come vedremo adesso, molto delicati. Prima di parlare di questo però, voglio fare dei chiarimenti. C'è stato un amico che sotto a un video ha scritto «Marco, lascia stare la politica e parlaci solo di preghiera perché abbiamo bisogno di questo». Allora, chi conosce il Decimo Toro e segue il mio canale sa che io non faccio distinzione tra preghiera e politica. Il mio è l'unico canale di meditazione e tradizione e la tradizione comporta anche la politica, perché la tradizione, il tradere, è il passaggio di testimone. Tradere vuol dire passare, va bene? E quindi la tradizione non è qualcosa che ci fa venire il torcicollo e che appartiene solo al nostro passato. Perché l'atto del tradere, del consegnare, del tramandare riguarda il futuro. E quindi in questo sguardo al passato, quindi alla identità passata, ma nello stesso tempo guardare al futuro, c'è l'agire dell'uomo e della donna della tradizione, che inevitabilmente è un agire politico. Quindi trovo assurdo il discorso di «lascia perdere la politica» e «parlaci solo di preghiera», perché non faccio distinzione. E il mio agire politico non è diverso dalla preghiera. Io, insieme ai miei allievi, alcuni di loro hanno famiglia, gran parte di loro no, perché sono molto giovani, ma tutti ci riteniamo dei monaci, dei monaci del 2020, dove siamo coscienti che ormai è finito il tempo della clausura. Soprattutto nella prospettiva futura, la figura del monaco sarà prevalentemente un monaco nell'azione, e quindi portare Dio attraverso l'azione e l'agire concretamente. Dunque, il «lascia stare la politica» è per me un discorso assurdo, perché è come dirmi «lascia stare la tua relazione con Dio». Poi c'è un'amica che lancia una sorta di messaggio nella bottiglia, di S.O.S., scrive «Signor Marco, provo a seguire i suoi insegnamenti, ma piano piano, ultimamente la mia fede è del tutto svanita, in seguito ad avvenimenti che mi hanno molto fatto soffrire e ancora mi fanno male». Allora, cara amica, non scoraggiarti, non scoraggiarti. Se tu provi a chiudere gli occhi, sembra che il mondo non esiste più, ma il mondo in realtà c'è. Basta aprire gli occhi ed eccolo lì davanti a te. E così ci sono dei momenti di buio dove Dio sembra non esserci, ma in realtà c'è, in realtà c'è. E bisogna aprire l'occhio interno, l'occhio della fede. Adesso ti dirò qualcosa che ti sembrerà molto strano. La fede non si può perdere, perché se si perde la fede, quella che ritenevi essere fede non era fede. Lo accennavo in un altro video del fatto che fede vuol dire fiducia e noi ogni giorno facciamo atti di fede, perché anche prendere un autobus è un atto di fede rispetto a quella determinata azienda, perché abbiamo fede che non abbia messo un terrorista, ad esempio, come guidatore. e così quando andiamo a comprare un etto di prosciutto abbiamo fede che non ci venga messo dentro del veleno. Quindi atti di fiducia noi li facciamo costantemente. La fede non è qualcosa che riguarda solo la religione, è un atteggiamento che si ha, anche relazionale rispetto agli altri. Dunque, non ti scoraggiare. Come hai detto te, piano piano, segui i miei consigli e vedrai che piano piano svilupperai una forma di fede che è legata anche all'esperienza. All'inizio è vero che la fede può essere cieca, nel senso si fa un atto di fede rispetto, ad esempio, come si ha fiducia, stavo dicendo prima, nel guidatore dell'autobus o nel droghiere che non ti metterà mai un veleno nel cibo o nel pane. E così, ad esempio, i miei allievi hanno avuto fede in me inizialmente perché non mi conoscevano. Poi però, quando hanno iniziato a sperimentare realmente la presenza di Dio dentro di loro, la loro fede è cambiata. Il loro modo di avere fede è cambiato. Innanzitutto perché hanno visto che la fede in me è in realtà una fede verso Dio, perché io non sono nulla. Io tutto quello che so, tutto quello che insegno, è vero che ha frutto anche di anni di studio, ma soprattutto di esperienza diretta. L'esperienza diretta non è qualcosa che possiamo ottenere con un atto di volontà o con le buone opere. È la grazia divina. L'esperienza diretta è quando ci si apre alla grazia divina e si sperimenta la grazia di Dio nella propria interiorità e, di conseguenza, nella propria vita. questo tipo di centratura. Poi parlerò di Santa Teresa, accenerò, la stanza del re, il centro di noi stessi, il regno dei cieli. Quando si assaggia, anche un assaggino del regno dei cieli, cambia del tutto la nostra visione, perché la nostra non è più fede cieca, perché abbiamo visto, è come se tu, appunto, vivessi sempre con occhi chiusi, e quindi basterebbe aprire gli occhi per un minuto e poi, anche richiudendoli, non potresti più negare quello che hai visto in quel minuto. E quindi saresti venuto a conoscenza di una realtà che altre persone che tengono gli occhi chiusi non possono conoscere. E la fede porta a questo. Bisogna coltivarla, la fede. È come una piantina, un semino. E quindi all'inizio magari non vedi niente. Metti solo l'acqua, richiede, come tutte le piante, la luce necessaria, il cibo necessario, poi inizi a sbocciare e fa tutto da sé. Tu devi semplicemente, con la pratica quotidiana, darle acqua e luce, come una piantina. E poi il resto lo fa tutto la grazia, lo fa tutto il Signore, perché senza l'aiuto di Dio noi non possiamo fare assolutamente nulla. Quindi non ti scoraggiare e paradossalmente abbi fede, abbi fede. Dio non ti abbandona. Non ti abbandonerà mai, stai tranquilla. Sono gli uomini che possono abbandonare Dio. Ma è impossibile l'inverso. Un'altra amica scrive Caro Marco, un consiglio. Il Santo Rosario come seduta di preghiera con l'attenzione alla respirazione e alla postura, ha lo stesso effetto della preghiera del cuore, secondo te? Allora, io ti ho abbozzato una risposta, però adesso desidero approfondire, darti rispondere a questa domanda in maniera più approfondita. quello che serve per chi voglia avere un'esperienza mistica autentica è la pratica quotidiana. La pratica, la pratica, la pratica. Questi sono i consigli che mi dava il mio maestro. Dice, ti devi ricordare solo tre cose. La pratica, la pratica, la pratica. Tutto qui. Ogni giorno bisogna praticare, però la cosa importante è che deve essere sempre lo stesso tipo di preghiera. Quindi, non si possono fare degli strani mischietti, non si può pregare un giorno sì e tre no. La preghiera deve essere una disciplina quotidiana, un aprirsi alla grazia di Dio quotidianamente, perché i nostri sensi sono cinque, però noi abbiamo, grazie a Dio e alla sua grazia, la capacità di percepire oltre questi cinque sensi. Sembra strano, ma è una sorta di sesto senso che è l'accesso alla dimensione metafisica che sviluppiamo attraverso la pratica quotidiana. Quindi, tornando strettamente alla tua domanda, dici il santo rosario con la seduta di preghiera, con l'attenzione alla respirazione, ha lo stesso effetto, secondo te? Dovrei parlare con te e sapere esattamente cosa fai quando dici rosario. Però diciamo, io ora, visto che sto parlando della preghiera del cuore, è un ottimo complemento alla preghiera del cuore, il santo rosario. Però bisogna fare una scelta. Cioè, se si sceglie di dire il rosario tutti i giorni, ci si dedica tutti i giorni al rosario. E allora può essere un complemento la ripetizione del nome di Gesù, cioè la preghiera del cuore. Se si sceglie di praticare la preghiera del cuore, il rosario sarà complementare. Che significa sarà complementare? Significa che va benissimo il rosario. Ma se, ad esempio, visto che noi conduciamo una vita, come ho detto prima, non in monastero, ma siamo monaci che vivono nella realtà quotidiana, con i problemi che hanno tutte le famiglie, e con i problemi sociali anche molto grandi in questo momento, e allora ci potrebbe capitare, ad esempio, di non avere il tempo sufficiente, il tempo necessario, soprattutto se si è mamma, se si hanno dei figli in casa, se si sono molto occupati. E allora, se si segue, ad esempio, il cammino della preghiera del cuore, e se non c'è spazio, va eliminato il rosario. Perché va data la precedenza al tipo di pratica che stai portando avanti. Se invece, ad esempio, la tua pratica è quella del Santo Rosario, e hai avuto un bravo maestro che ti ha insegnato, perché anche il Santo Rosario si può recitare così, anche meccanicamente, ma anche lì sei un bravo maestro, ti aiuterà a entrare nell'esperienza del rosario. E di conseguenza, se quella è la tua pratica, sarà complementare la preghiera del cuore. Quindi, se non avrai tempo, o, non so, un giorno si ha la febbre alta, ci sono dei fattori di difficoltà, a volte, nella preghiera, e allora, quello che è complementare, va quel giorno lasciato perdere. Se segui il Santo Rosario, lasci perdere la preghiera del cuore. Se segui la preghiera del cuore, per quel giorno, lascerai il Santo Rosario. la cosa importante è che un solo modo di pregare deve essere la tua via quotidiana. Non fare una volta un tipo di preghiera, un'altra volta un altro tipo di preghiera. Questo non va bene. Ho detto sempre ai miei allievi, dico, guardate che, se vedete una persona che scava in giardino per cercare l'acqua, se scava cento pozzi, chissà cosa sembra che sta facendo, ma resta sempre in superficie. Se scavi un solo pozzo, invece, arriverai all'acqua. Altra domanda. Marco, questo modo di pregare a mo' di mantra non potrebbe sviluppare una sorta di autoipnosi? conosco qualcuno che ha cercato di farlo e più andava nel profondo, più si sentiva il corpo bloccato. Potresti dirmi qualcosa al riguardo? Certo, certo. Potrei fare un'intera playlist al riguardo. E tra l'altro c'è una playlist dove parlo di stati di coscienza, che è anche una playlist lunga. non so se l'ho sbloccata adesso, perché molte playlist le ho bloccate sul primo canale, date le censure di YouTube. Però, certo, nonostante cercherò di risponderti in maniera approfondita, non potrò mai essere esaustivo, perché appunto richiederebbe almeno minimo 5-6 ore di spiegazione questa domanda. 5-6 ore per una risposta per lo meno esauriente. Allora, tu dici non si può sviluppare una sorta di autoipnosi? Sì, si può sviluppare una sorta di autoipnosi. Tant'è vero che il padre Gallisto, che è il maestro che stiamo seguendo in questa playlist, già nel video precedente accennava a questo stato di torpore e di sonnolenza. Poi riprenderà il discorso. Per questo bisogna avere un maestro esperto che ti consigli. Comunque vedremo che se volete andare avanti con la preghiera del cuore, già le indicazioni che vi darò in questa playlist saranno sufficienti per procedere da soli per parecchio tempo. Poi ci sono sempre io, cioè potete sempre pormi delle domande, così anche se non ho molto tempo, io dedico tutto il tempo che ho, lo dedico alla preghiera e all'insegnamento della preghiera fondamentalmente. Allora, il corpo bloccato, sì, può capitare, però da tenere presente, e poi mi devo ricordare di approfondire questo argomento, che ci sono delle forme di preghiera che hanno delle controindicazioni, come quella ad esempio del Santa Teresa o San Giovanni della Croce, altre che non hanno controindicazioni, nel senso che possono essere praticate da tutti senza alcun tipo di problema, anche per quanto riguarda la psiche o problemi psichiatrici. Poi accenerò a questo. autoipnosi, sì, il fatto è questo, che più si entra nella dimensione di Dio, più ci si rende conto che quello che viviamo ordinariamente è una specie di autoipnosi, perché il vero essere svegli, lo vedremo adesso di leggere un brano di Santa Teresa, è proprio stare a contatto con Dio, stare a contatto con Dio, altrimenti si vive in una specie di sogno, una suggestione collettiva. Gli elementi suggestivi sono continui, non ci se ne rende conto, ma non è che sono solo le pubblicità, è tutto quello che ti hanno insegnato le persone che hanno avuto contatto nella vita, è tutto quello che dimora nel tuo inconscio e che l'inconscio fa riemergere attraverso anche il pensiero ordinario. e non sai quante persone vivono in questa sorta di pensiero compulsivo che è una specie di ipnosi. Per quanto riguarda il problema del corpo bloccato però rispetto alla preghiera del cuore, è facilissimo sbloccarlo, proprio perché l'autoipnosi è una sorta di dormivelia più profonda. Bene, di conseguenza se si sente il corpo bloccato basterà invece di voler muovere tutto il corpo all'improvviso muovere una piccola parte del corpo, ad esempio scegliere di muovere un dito o di aprire una mano e si sentirà piano piano un improvviso sblocco del corpo perché si può entrare in questo stato di autoipnosi però con questo tipo di pratica che sto insegnando nei video in questi video che vedete non ci sono controindicazioni quindi possono essere praticate da tutti altre pratiche invece ci sono delle controindicazioni e per questo i miei allievi li seguo personalmente e gli insegno anche delle tecniche di preghiera che non metterei mai sul tubo perché richiedono la presenza di un maestro richiede di essere seguiti da un maestro perché le insidie sono tantissime sono tantissime allora ci sono in altre culture per esempio si utilizzano delle 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 droghe che portano a stati alterati di coscienza perché in ogni caso l'autoipnosi è uno stato alterato di coscienza e sono molti gli stati alterati di coscienza alcuni si ottengono attraverso la privazione sensoriale altri assumendo delle sostanze e ripetendo per esempio negli antichi culti a bacco ripetevano evo e evo e tutti insieme mentre bevevano e si entrava in un'ubriagatura che non è un'ubriagatura qualsiasi del ubriacone era un preciso stato alterato di coscienza nella tradizione cristiana c'è la lucidità non si fa uso di droghe non si fa uso privazione sensoriale a volte sì nelle forme di ascesi medievale per esempio dove si facevano digiuni prolungati anche si utilizzavano delle vere autotorture il cilicio delle punizioni fisiche quello era per provocare degli stati di coscienza alterata ma che sono un po' delle forzature tant'è vero che tra i primi ascesi asceti che andavano anche nel deserto ci furono anche delle esagerazioni dei morti ci fu chi si castrava per rispettare il comandamento legato a un certo tipo di sessualità queste esagerazioni che non sono assolutamente necessarie per fortuna e quindi c'è una lucidità una lucidità che si deve recuperare tramite la grazia tramite il divino però ecco in breve poi magari potete rifarmi delle domande approfondiremo sappiate che queste tecniche che insegno non hanno controindicazioni questa è la cosa importante altre tecniche che insegnano i lievi hanno controindicazioni tant'è vero che è capitato allievi che hanno o paura che hanno avuto un'esperienza particolare e così e ci vuole la presenza di un maestro esperto che ti dice quello che sta succedendo come fare a gestire quello che ti sta accadendo e così via altrimenti non avrebbero senso i maestri spirituali e non avrebbe senso ad esempio gli scritti di San Giovanni della Croce di Santa Rita quelli sono dei veli e propri manuali di meditazione cioè non è che dove pensare che è una semplice biografia autobiografia no sono proprio dei manuali di meditazione il castello interiore di Santa Teresa per dirne una ma anche altri grandi mistici e dottori riconosciuti dalla chiesa sono degli insegnamenti spirituali nel caso di Santa Teresa offerto certo dirette alle carmelitane ma in realtà sono patrimonio di tutti è come il rosario è un patrimonio di tutti cioè chi lo vuole praticare lo pratica poi ognuno lo praticherà a diversi livelli di profondità si può recitare no e praticare e quindi Santa Teresa ad esempio perché chiama il castello interiore il suo manuale di meditazione il suo manuale di preghiera perché dice che paragona la nostra interiorità a un castello attraverso attraverso una vita di preghiera noi possiamo raggiungere la sala del re che sarebbe il centro dell'anima sarebbe il regno dei cieli il fondo dell'anima per Maester Eckhart la vetta del Monte Carmelo per San Giovanni della Croce e quindi Santa Teresa utilizza questa allegoria del castello fatto di sette dimure e non è un caso anche qui che utilizzi il numero sette che è la descrizione delle dimure ma adesso io non posso parlare di questo e il castello interiore è quindi un vero e proprio dito che indica la luna sono delle indicazioni pratiche quelle lì per arrivare all'unione mistica all'unione con Dio al regno dei cieli e per farvi capire che l'esperienza mistica inevitabilmente poi porta a un'alterazione dello stato della coscienza che nell'ambito del cristianesimo e soprattutto di una preghiera senza ricorrere agli estremismi come vi dicevo prima di chi si era perfino castrato o a situazioni di esasperazione di questo tipo però il mistico il monaco io anche Marco Cosmo i miei allievi siamo dei mistici siamo dei monici del ventesimo secolo ventunesimo secolo nel caso mio del ventesimo quindi l'esperienza mistica comporta inevitabilmente l'accesso a stati di coscienza alterata sarebbe vastissimo il discorso eh prendendo prendendo sant'alberto prendendo i vari mistici eh però io voglio accennarvi a una fra un piccolo brano proprio del castello di Santa Teresa che ci fa capire come sono questi stati di coscienza o meglio che lei aveva questi stati di coscienza alterata perché l'esperienza di Dio inevitabilmente si ha in uno stato di coscienza alterata perché la percezione sensoriale funziona in maniera diversa dalla percezione ordinaria altrimenti si lasci perdere la via del misticismo va bene tutto rispetto a Dio va bene anche la preghiera di un bambino che ringrazia Gesù prima di mangiare il panino come io facevo e mi avevano insegnato a Catechismo va bene tutto va bene tutto però se si vuole intraprendere una pratica quotidiana dove si penetri gradualmente nel mistero del regno dei cieli e ci si stabilizzi lì e questo richiede impegno impegno quotidiano vi leggo Santa Teresa quando si era stabilizzata al centro del castello cioè ormai il suo contatto con Dio era definitivo e scrive essendo così lontana dal mondo in compagnia così piccola e santa vedo ogni cosa come da un'altura per cui poco mi curo di ciò che si dica o si sappia di me più che delle chiacchiere a mio riguardo mi interesso di ogni più piccolo progresso che un'anima possa fare attenzione qui la vita mi è devenuta come una specie di sogno sogno mi sembra tutto quello che io vedo non sento più né grandi gioie né grandi afflizioni e se talvolta ne provo ancora è solo per poco tempo tanto da meravigliarmene io stessa rimanendomene poi con l'impressione come di una cosa sognata ecco qui Santa Teresa ci descrive in pieno uno stato di coscienza alterata derivante dalla grazia non derivante da forzature come gli aborigeni della paciamama tutto questo disastro che ha fatto Bergoglio perché quelle alterazioni di coscienza lì cioè l'evocazione delle forze della terra è diverso dalla invocazione dello spirito santo l'evocazione delle forze delluriche delle forze demoniache è l'opposto della invocazione e della supplica che la grazia di Dio entri nei nostri cuori e illumini le nostre anime questo è il disastro della paciamama ma Santa Teresa Santa Teresa attraverso un percorso dettagliato che ci lascia in un vero e proprio manuale di meditazione che è il castello interiore ci dice questo innanzitutto che non gli interessa più del giudizio degli altri così la cosa più importante è la compassione compatire fare qualcosa per gli altri è il decimo toro è quello che sto cercando nel mio piccolo di fare anch'io e poi dice attenzione la vita mi è divenuta una specie di sogno ecco lo stato di alterazione di coscienza ce n'è più né grandi gioie né grandi afflizioni e questo è proprio anche San Giovanni della Croce era così lo descrivono con linguaggi diversi perché entriamo nel campo della metafisica ma la situazione è quella poi e conclude dicendo se talvolta provo ancora afflizione o gioia è solo per poco tempo tanto da meravigliarmene io stessa rimanendomene poi con l'impressione come di una cosa sognata quindi una grande trasformazione è ravvenuta anche nella dimensione della sfera cosciente dell'inconscio solamente e qui concludo poi in caso riprenderemo il discorso se vi interessa che questo tipo di meditazione sia di San Giovanni della Croce che di Santa Teresa ha molte controindicazioni perché nel loro tempo non si conoscevano ancora molte malattie psichiatriche anche che adesso si conoscono e quindi ad esempio se una persona ha una tendenza paranoide una tendenza schizofrenica così non può praticare la preghiera di Santa Teresa o di San Giovanni della Croce perché ci sono delle forti controindicazioni che adesso sarebbe troppo lungo da spiegare ma invece la ripetizione del nome di Gesù non ha controindicazioni per nessuno per nessuno quindi abbandonatevi al Signore chiedete la sua grazia tenete presente che io sono a vostro servizio sul decimotoro che è proprio un canale di servizio legato alla meditazione e alla tradizione chi può mi dia un piccolo contributo se vuole altrimenti preghi per me un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo grazie a tutti